Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo presentarvi un video con mia sorella che giochiamo a Brim. Allora, se lei ferma, fa un favore o si ammazza? No, prima devo far vedere i miei omini, la spada che userò. Allora, noi siamo già avanti. No, sono partito. Un partito. Allora, vi spiego. Questo gioco consiste in fare le missioni, fare il record e divertirsi. Le missioni sono scritte sotto. Io devo sconfiggere uno stregone. No, 19. Allora, se io entro qua dentro, sono in un nuovo regno. Io adesso ho una spada schifosa, ma ce ne ho di più belle. Se entro in questo regno, quando finisco di usare questo regno... Il tesoro. Ah, vedi, adesso ho due cuori, perché mi hanno colpito. Oh, ci sono delle nuove cose, Lavi, con i cespugli. Ah, no, la mia spada, scusa. Climbotto. Oh, Dio, sto per uccidere il gigante. Ho preso il tocco di nida. E adesso abbiamo un baule. Alla fine. Dopo vi spiego cos'è il tocco di nida. Ok. E questi qua sono i pover, i pover, i pover. I pover ci sono lo scudo e la spada verde. Il tocco di nida. No, il tocco di nida, sì. Quando lo prendi, per ora, il vecchio, il mago. Quando sconfigo il mago, lo sconfigo... Eh no, mi è andato da via la spada verde. Qua salvo i nemici. Eh. Ne salvo i nemici. E adesso devo sconfiggere i 25 nemici. Questa qua è un'assenza. Ho due cuori. E io ho uno. E questo qua, quando sei, ha difficoltà due. Io ho già un forziere. Anch'io. Devo combattere i due pover qua. E sconfiggere i 25 nemici. Perfetto. Questo qua è lo scudo, come avete visto. E questi qua sono i poteri della mia spada. Perché alcuni li intrappola con le resine. E quello lì è un gigante. Tu devi schivare i colpi. Pum. E invece con la spada, con il pover verde, lo ammazzavi in un colpo. Però non è successo. Ok. Io ho un cuore ancora. Io ho un cuore. Quello è sempre il pover. Ruppo. Ci sono diverse fortezze, no? La fortezza della libreria, come la chiamiamo noi. Poi la fortezza del ghiaccio, la fortezza della pioggia. Noi chiamiamo un po' tutto diverso. Sono morta. Qua si vive. Lei è morta perché fa schifo giocare. Non è vero, sono più brava di te. E sono morto pure io. Sono morto pure io. Vediamo cosa trovano ai forziere. Oh. Nooo. Ce l'ho già. La spada d'oro ho trovato comunque. Io ho trovato. E su livello 20 comunque. Io ho l'essenza di punteggio. Ok. Maledizione sta punteggio. C'è l'essenza di punteggio. Bello questo gioco però eh. Forse lo scarico. Ma babà. Io devo trovare un personaggio stupendo. Io sono a livello 21. Lei è a livello 20. No. 20. 20. E quindi è il livello. E quindi è il livello. Che so dai quanto è duro. E dai. 4. 3. 2. 1. 1. Stai guardando la pubblicità dei cubetti. No. Vabbè. Un forziere gratis. Quello apriamo. Oh. Ce l'ho già ma sta cannuccia. Allora. Ok. Qua. Armi. Ci sono un sacco di armi. Vedete. E io voglio usare. Hmm. Ha ha ha. Che guardiano. Perché sono più bravo di mia sorella. Guardiano. Si. Parte raga. Ok. Ok. Ma questa spada da un cuore in più. Ci sono anche diversi omini. Lugna 3. Io. No. Lugna. Lugna 4. Questo qua è il cavallo. Vedi i fischietti e il cavallo. Ci sono. C'è anche il cavallo. Ok. Questo qua è il mio coso. Il mio animale che uso. Quante animali ha? 3. Um. 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 Su. Uh. Uh. Pu. Uh. Pu. Questa qua la chiamiamo il mondo di ghiaccio. Pu. 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 31 colpi do male di schiena a stare contro la colonna ecco, ho tre cuori ok, combla un povero un tocco di mida salva 5 il tocco di mida questo qua non è il tocco di mida questo qua fa una specie di cosa che non so cos'è il povero della spada il tocco di mida è quel pugno lì bene, difficoltà 2 con questo si vola vedete ecco, quello là eccolo qua ecco, questo qua è quello che fa guardate quanti soldi prende guardate quanti soldi prende scomiglia con il tocco di mida bene il tocco di mida tra un po' finiremo eh, mia sorella sembra che è morta guarda quanto sono bravo io sono in prima entrato nel mondo della luna come lo chiediamo noi combo 10 colpi poi io coleziono anche le vanguard le vanguard sono delle carte che faremo anche un video di vanguard ah, e salutiamo Kanyot08 Kanyot08 mi prende in giro un sacco di volte dice anche Dan 7-7 no, ma chiedono a mio amico Dan 7-7 abbiamo litigato direi che il video finisce qua perché se no venne troppo lungo mi ammazzo e vi saluto ecco ciao ragazzi il video finisce qua spero che vi sia piaciuto e ciao raga ciao aspetta saluto anche te ciao 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 ciao